Dichiarazione dello stato di emergenza per un anno e stanziamento iniziale di 7 milioni 400 mila euro e quanto il Consiglio dei Ministri ha stabilito a seguito dei danni del maltempo di inizio mese nelle aree del Bellunese e del Vicentino. Qui all'indomani dell'arrivo della buona notizia i sindaci dei comuni maggiormente colpiti, Vicenza, Longare e Torri di Quartesolo non hanno perso tempo e hanno firmato un documento congiunto indirizzato alla Regione. Abbiamo condiviso un documento da mandare in Regione con i sindaci coinvolti dall'area del Tesina per cominciare a ragionare su un bacino di laminazione più a nord che possa tutelare come è avvenuto per l'importante funzione di qualche settimana fa compiuta dal bacino di Caldogno che possa mettere in sicurezza anche il Tesina. La notizia più che lo stanziamento dei fondi è il fatto che si sia dichiarato lo stato d'emergenza e che questo stato d'emergenza duri tutto un anno nel quale come sindaci, come strutture regionali e anche statali potremo lavorare per risolvere i problemi compresi anche i ristori. Poi i ristori non sono mai percentualmente molto alti, questo bisogna dirlo, però quello che è giusto portare a casa lo porteremo a casa. Sono arrivate delle risorse, un via libera, chiaramente ci aspettiamo anche un'integrazione importante, sono i primi 7 milioni e 400 mila euro, però lavoreremo nei prossimi mesi per aiutare le persone ad avere il ristoro dei danni che hanno subito.